Quindi noi dobbiamo avere una forza unita per arrivare a fare un risultato che mai potevamo aspettarci di avere. Abbiamo poco tempo e le nostre forze devono essere indirizzate su queste cose, sulle cose reali, sul programma, su quello che porteremo avanti, sulla campagna che ci aspetta. Siamo qualcuno per terra e possiamo fare una rivoluzione straordinaria con l'intelligenza. La paura di queste persone qui, noi ingutiamo una paura terribile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Noi vogliamo che i cittadini entrino tutti in Parlamento e diventino il Parlamento. Questo mondo come l'abbiamo conosciuto è finito. Ce ne dobbiamo immaginare un altro. Un altro dove è la crescita, è la crescita dell'intelligenza, la crescita dei rapporti umani, la crescita della cultura, dell'ambiente, della vita. È questo il cittadino. Ehi, come un altro dove c'è già 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 Grazie a tutti.